buongiorno ai nostri video ascoltatori del canale youtube d'italia medievale oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi un autore che ha appena pubblicato un interessantissimo saggio che si intitola il primo gran maestro gerardo e l'ospedale di san giovanni di gerusalemme 1070 1120 l'autore è giuseppe perta edito dalle edizioni scientifiche italiane in quest'anno 172 pagine per soli 22 euro un libro che si avvale anche della prefazione di franco cardini che ho avuto il piacere di leggermi che non è poco che non è poco e su una figura davvero particolare perché gerardo è considerato il fondatore dell'ordine degli ospitalieri quindi però come spesso accade si sa molto di questo ordine religioso dal momento in cui esiste ma poco si sapeva e in modo molto confuso del suo fondatore giuseppe ha colmato questa lacuna grazie a questo interessante saggio io come al solito non rubo tempo all'autore lascio a te giuseppe la possibilità di raccontarci di questo interessante libro prego sì grazie maurizio grazie per l'opportunità per l'occasione per la come dire per la gentilezza che spero vorrai confermare fino alla fine di questo dialogo non parlando troppo male del volume che che ti ho inviato ma davvero ti sono grato perché poi ti dico la verità no se è vero come vero e come ho sentito dire da te anche da alcuni amici colleghi nelle tue belle video interviste che il contatto ci manca perché è vero che ci mancano davvero le occasioni di dialogo come si dice oggi in presenza senti sentivo parlare anche alessandro vanoli del la voglia di ritornare agli abbracci di una volta questo questo è vero come se ci manca mi riferisco alla didattica alle conferenze convegni alla presentazione dei volumi però altrettanto vero per un giovane studioso come me per un giovane medievista come me giovane poi nella relativamente all'accumulazione del sapere per quanto riguarda la ricerca non giovane ahimè in senso assoluto perché sono già un vecchio padre di famiglia ma dicevo per me questa è una grande occasione perché riesco ad intercettare tramite te un vasto pubblico non dico di lettori ma se non altro di interessati di persone con cui dialogare eh perché poi in fin dei conti uno dei miei obiettivi nel far ricerca è quello di parlare a qualcuno e quindi sì è vero che sono volumi anche a carattere scientifico ma mi sforzo anche memore dell'antico insegnamento ciceroniano insomma della storia come opus oratorium maxima e quindi sostanzialmente anche narrazione mi sforzo di scrivere anche bene provo a farlo proprio per guardare anche ad un pubblico più ampio della ristretta cerchia di specialisti e quindi ti sono grato per questa occasione anche perché ho l'occasione di parlare di un tema che mi sta molto a cuore libro esce quest'anno per una serie di motivi che adesso se me lo consentirai specificherò ma eh ha una lunga storia una lunga storia intanto si inserisce credo di poter dire coerentemente nel mio percorso di studi adesso non non dico bene o male ma coerentemente nel senso che io ho dedicato la mia prima monografia che si intitola mediterraneo della mobilità pubblicato a napoli dall'università degli studi solo sulla ben in casa ho dedicato la mia prima monografia al pellegrinaggio a gerusalemme tra tarda antichità e alto medioevo poi con una seconda parte dedicata al pellegrinaggio come tema storiografico come oggetto di studi nel corso di questo studio mi sono reso conto che l'epoca d'oro dei pellegrinaggi a gerusalemme ma non soltanto comunque parliamo di gerusalemme è l'undicesimo secolo qualcosa cambiava dal punto di vista prettamente numerico ma non soltanto un diverso sentire un diverso clima escatologico se vogliamo legato anche al millenario non della nascita di cristo quello sappiamo che è un mito ma un millenario della passione di cui ci parla pure rodolfo il grabbro e poi ha fatti particolarmente significativi per la storia gerosolimitana e non soltanto nel millenove avviene qualcosa di particolarmente significativo che scuote le coscienze occidentali halakim il califo fatimide del cairo decide di distruggere molti luoghi santi cristiani tra cui il santo sepolcro che non è un santuario qualunque e il santuario senza voler fare una si può dire più significativo per la cristianità perché custodisce l'edicola che sormonta a sua volta la tomba vuota di gesù cristo e questo evento non è senza conseguenze ce lo dicono le fonti cronachistiche dell'epoca e poi comunque un aumento dello spirito penitenziale porta sempre più pellegrini a recarsi a gerusalemme per via di mare e per via di terra questo fatto è particolarmente significativo c'è un'altra un'altra piccola premessa da fare alla fine tra la fine del decimo inizio dell'undicesimo secolo il famoso stefano d'ungheria gre d'ungheria santo stefano d'ungheria si converte al cristianesimo e con lui tutti i maggiari in qualche modo aprendo la cosiddetta via diagonalis la via balcanica che collega di fatto sto semplificando i termini della questione l'europa occidentale al vicino oriente la rende appunto non dico percorribile facilmente percorribile percorribile ma se non altro accessibile a chi voleva recarsi in pellegrinaggio in terra santa questo cambia radicalmente le dinamiche del pellegrinaggio perché il pellegrinaggio alto medievale e tardo antico alto medievale era stato un fenomeno elitario per pochi perché perché bisognava avere mezzi importanti per pagare il passaggio marittimo bisognava avere la possibilità di stare tanti mesi perlomeno ma più spesso anni lo lontano da casa bisognava avere un seguito di persone con cui viaggiare per questioni di sicurezza si attraversavano strade impervie territori complessi deserti alture e territori dove scorazzavano banditi c'erano guerre in atto insomma viaggiare non è mai stato semplice nel medioevo e in particolar modo nei secoli alto medievali dicevo con l'undicesimo secolo con l'apertura della via balcanica con questo rinnovarsi dello spirito penitenziale con anche vogliamo legarlo anche al millenario dalla passione di cristo e comunque per una serie di motivi noi abbiamo le fonti che ci raccontano un dato incontrovertibile i pellegrinaggi aumentano numericamente in maniera importante e le cronache ci riferiscono pensa addirittura di centinaia se non addirittura in un paio di casi di migliaia di pellegrini ma in marcia pensiamo al pellegrinaggio di liberto di cambrè pensiamo al grande pellegrinaggio tedesco perché tutta questa premessa sul pellegrinaggio perché è impossibile concepire gerardo e la nascita dell'ordine dell'ospedale di san giovanni di gerusalemme che un ordine assistenziale che nasce proprio in funzione della mobilità devozionale per assistere per accogliere i pellegrini che arrivano a gerusalemme impossibile capire la figura di gerardo senza la storia che lo precede e dal mio punto di vista l'errore che è stato fatto finora è stato di guardare a questa storia diciamo sulla base dell'ospedale che sarà piuttosto che delle premesse delle origini quello che dicevi tu in premesse sono diverse per cui ho studiato nel primo volume il pellegrinaggio tra tarto antico e alto medioevo poi la vigilia della crociata l'undicesimo secolo il periodo del clou l'età d'oro e poi arriviamo quindi alla alla vera e propria vigilia della crociata prima e dopo quando si inquadra l'opera di questo personaggio che definisco il primo gran maestro dell'ordine di san giovanni di gerusalemme perché quest'anno anche perché ricorre un anniversario intanto sgombriamo il campo se mi consenti da una comuni sopinio quella delle origini oscure dell'ordine di san giovanni di gerusalemme una un'aura di indeterminatezza nata in età romantica e poi col neo romanticismo ha spesso reso nebulosa la storia degli ordini cosiddetti religioso militari sappiamo che sono gli ospedalieri i templari e teotonici che in terra santa si occuperanno sostanzialmente della difesa dei pellegrini e sono i cosiddetti ordini cavallereschi di cui poi diremo qualcosa e anche nei volumi a carattere scientifico anche nelle più moderne storie delle crociate capita spesso di leggere di queste origini misteriosi o di un personaggio di cui poco si sa questo gerardo non è soltanto una figura importantissima fondamentale perché capo istitutore fondatore non dell'ospedale ma degli ospedalieri e poi vedremo la differenza fondatore di un ordine che vive ancora oggi questa è la lunga durata perché l'ordine di san giovanni di gerusalemme passato poi ad acri poi a cipro per i vent'anni a cavallo tra eh tredicesimo e quattordicesimo secolo poi a rodi per duecento anni fino all'arrivo a malta al tempo di carlo quinto e poi la conquista napoleonica del mila settecentonovanto sulla scia della spedizione d'egitto poi eh oggi ancora esiste come ordine di malta ma ancora si chiama tecnicamente ordine di san giovanni di gerusalemme ecco questa è una storia millenaria di lunga durata che nasce proprio con gerardo al tempo della prima crociata e quindi il fatto interessante c'è anche un anniversario da commemorare tra le tante cose che sappiamo di questo personaggio noi conosciamo con certezza e con esattezza la data della sua morte gerardo muore a gerusalemme il 3 settembre del 1120 quindi esattamente novecento anni fa novecento anni fa o poco più visto che siamo a novembre e eh gerardo è nato a cristo eh come dire il 3 settembre quindi gerardo finisce per essere c'è questa ragione legata ai miei studi questa ragione legata all'anniversario ma finisce per essere un trade union perfetto tra il pellegrinaggio e la crociata io ritengo sia che ci fosse da colmare un vulnus eh storiografico sì certo e ehm per la verità ci sono stati contributi interessanti da della Villarue eh Istand penso anche in Italia Fonseca dei Giovanni Centelles lo stesso Cardini Cozzo ma ancora non era stata dedicata una monografia qualcosa c'è eh però con un'attenzione anche all'orizzonte eh amalfitano di Gerardo io però credevo fosse necessario mettere in fila mettere in ordine la documentazione su questo personaggio anche perché ti dico se n'era discusso molto ma a partire dal settecento soprattutto relativamente alle sue origini che è una questione che ha affascinato molto affascina ancora non affascina a me più di tanto perché dal mio punto di vista per quello che sappiamo sì possiamo fare delle ipotesi e le faremo però non è tanto importante dove esattamente fosse nato ci sono altri personaggi medievali di cui non sono pochi di cui non conosciamo eh il luogo o la data di nascita secondo me l'obiettivo nel delineare la parabola biografica di un personaggio non è ritrovarne l'atto di battesimo ma piuttosto delineare l'opera l'azione di questo personaggio dicevo se ne è discusso molto a partire dal settecento perché eh per vari motivi a un certo punto si è creduto fosse originario eh della Provenza in particolare nativo di Martig un paesino che ho visitato tra l'altro splendido tipicamente mediterraneo dove si mangia benissimo consiglio a tutti di andare ma eh Martig sostanzialmente non esisteva a quei tempi almeno non esisteva come Martig c'era un piccolo borgo di pescatori un paio di borghi affiancati l'uno all'altro e dove ancora oggi sussistono delle memorie legate a Gerardo ehm raffigurato anche sulle facciate di alcune chiese con lo scudo e la spada insomma un'immagine eh anche romantica di questo personaggio lontana da quella che fu e poi eh c'è stata questo anche perché a un certo punto le reliquie di di Gerardo finirono in Provenza per una serie di vicissitudini che adesso non è il caso di stare a ripercorrere e poi c'è un'altra ipotesi più concreta che lega il personaggio a a Scala un borgo nei pressi di Amalfi anche qui sulla base di testimonianze tarde però le testimonianze anche hanno il loro valore c'è il grande studioso della costiera amalfitana Camera che ricorda due processi verbali del 1680 del 1705 che lo avvicinano alla famiglia scalese dei Saxo comunque al di là di questo c'è certamente un legame con Amalfi non tanto e non soltanto mettiamola così le le relativo a Gerardo ma relativo alla fondazione di questo ospedale chi era Gerardo? Gerardo era l'ospitalarius l'ospedaliere quindi l'addetto all'ospitalità di un monastero benedettino che stava nei pressi del santo sepolcro di Gerusalemme immediatamente a sud nel Muristan e che si chiamava Santa Maria dei Latini era quindi il monastero dei latini di Gerusalemme come ogni monastero che si rispetti aveva una foresteria una zona dedicata uno xenodocchio un ospizio un ospitale sono termini che finiscono per designare la stessa cosa nel medioevo quindi un aveva uno spazio dedicato agli ospiti pellegrini poveri bisognosi d'ogni sorta noi conosciamo esattamente la storia di questo ospedale perché l'ospedale esiste già da molto tempo prima di Gerardo certamente esiste un ospedale ai tempi di Carlo Magno che ho sentito anche la tua presentazione sul libro l'elefante di Carlo Magno che ricorda i rapporti tra gli scambi diplomatici tra la corte carolingia tra Quiscrana e Bagdad in buona sostanza ecco uno dei risultati di quei rapporti diplomatici fu la costituzione di una biblioteca di un ospedale e comunque sovvenzionamenti da parte dell'imperatore Carlo Magno ai cristiani di Gerusalemme ce lo dice anche la vita caroli Carlo Magno era particolarmente attento alle sorti dei pellegrini e dei cristiani di terra santa in senso lato al punto che poi più tardi si è persino ipotizzato che questa attenzione di Carlo Magno per Gerusalemme avesse dato abbio ad una sorta di protettorato franco in terra santa questo è un mito storiografico però la storiografia francese tra fine ottocento inizio novecento per citare un volume di Louis Breillet un contributo di Louis Breillet mosse aux origines des rapports entre la France e la Syrie insomma Carlo Magno era l'origine di questi rapporti tra la Francia e la Syrie all'origine di questa presenza franco interesse come si concretò questa presenza in vari modi sussidi finanziamenti ma di certo con la costruzione dell'ospedale forse c'era già ancora prima questo ospedale perché le fonti ci ricordano anche un ospedale ai tempi di Gregorio Magno che a tale scopo incaricò una bateprovo una continuità si può verificare si può avanzare l'ipotesi concreta di una continuità di questa struttura dall'età forse di Gregorio Magno certamente dall'età carolingia fino all'undicesimo secolo e qui ritorniamo all'inizio del nostro dialogo undicesimo secolo però viene qualcosa di diromperato la distruzione del santo sepolcro e di altri edifici cristiani da parte di Alachim possibile che in quell'occasione fosse distrutto anche l'ospedale latino nei pressi del santo sepolcro annesso al monastero di santa maria dei latini non sappiamo se fosse o meno distrutto non ne abbiamo la certezza di certo però una famiglia di patrizi barra mercanti amalfitani si adoperò molto per la costruzione ricostruzione di questo ospedale questo lo sappiamo con certezza ce ne parla amato di monte cassino abbiamo diverse fonti che ricollegano la fondazione dell'ospedale di gerusalemme ai mercanti amalfitani mercanti patrizi perché in realtà sappiamo esattamente chi furono era la famiglia decomite maurone mauro e pantaleone padre figlio decomite maurone la cui già lunga striscia onomastica ci fa capire che si parla di patrizi che però hanno anche interessi di natura mercantile perché sono presenti certamente a costantinopoli certamente in egitto e certamente anche a gerusalemme o e o ad antiochi quindi amalfi e da qui che parte questa storia a prescindere dalle origini specifiche di gerardo questa storia ecco perché mi interessa più che le origini interessano le scaturigini se vogliamo dire di di questa storia bisogna andare ad amalfi alla sua espansione nel mediterraneo orientale un'espansione ben documentata già dalla metà del decimo secolo pensa intanto a questo ce ne parla il brando e tante altre fonti intanto a costantinopoli ma costantinopoli e altrove e fa poi per esempio ad alessandria dove sappiamo con certezza che questi mercanti erano conosciuti non come mercanti tra i franchi mercanti come altri erano conosciuti come malafita quindi sapeva esattamente chi fossero ce lo dice iaia di antiochia c'era quindi una presenza importante degli amalfitari in egitto già dalla fine del del decimo secolo perché importante questo aspetto perché ed era una presenza cospicua pensa lo stesso iaia di antiochia ci racconta un episodio molto significativo nel corso di un incendio alla darsena del di alessandria del porto di alessandria che vide andare alle fiamme 16 imbarcazioni egizie furono acquisti accusati dell'accaduto gli amalfitani i locali per ritorsione ne ammazzarono ben 160 un'altra fonte dice 107 ma poco cambia la sostanza rimane cioè erano numerosi questi questi amalfitani ad alessandria e nonostante ciò però il califo dalle dell'epoca alla aziz che era sposato ad una cristiana di nome maria e che aveva un visire sempre cristiano punì chi aveva ammazzato gli amalfitani questo a testimonianza dei buoni rapporti e della tra tra gli amalfitani e il califo di mamma per meglio dire d'egitto buoni rapporti che tant'è che fece ammazzare un terzo di dei responsabili un terzo li condannò a pene severissimo un terzo li lo spogliò dei dei loro beni e via discorrendo ma questo aspetto è molto importante perché gli amalfitani portavano in egitto delle merci di cui gli egiziani avevano assolutamente bisogno in assoluto pensiamo al legname ma ne avevano bisogno in assoluto ma in particolare in momenti in cui si faceva complicata la situazione nel mediterraneo orientale dove i musulmani sempre avevano a che fare con i bizantini per la conquista del sea power mettiamola così quindi questa presenza in egitto degli amalfitani è strategica importante continua precoce e certamente giunge fino alla metà del secolo successivo anche altro ma rimaniamo alla metà dell'undicesimo secolo quando situiamo la la nascita dell'ospedale di san giovanni di gerusalemme e già perché in quell'occasione proprio in virtù dei buoni rapporti tra il califo al mustansir quindi siamo nella metà seconda metà dell'undicesimo secolo e i decomiti mauroni al mustansir questo ce lo racconta anche buglielmo di concesse ai agli amalfitani che è scritto nella cronaca avevano già altri fondaci nelle città di mare avevano già altri coloni al tempori nelle città di mare ma non ne avevano a gerusalemme o a me o meglio non avevano ubica put reclinare nisi cum gentili bus cioè non avevano per tradurre così un po in maniera rapida non avevano dove dormire se non presso i pagani non c'era insomma a quell'epoca un ospedale ospedale significa ospizio significa albergo significa tante cose non è soltanto l'ospedale dedicato alle cure dei malati a quell'epoca e quindi non c'era ancora questo spazio gerusalemme al mustansir in virtù di questi rapporti glielo concede e a quel punto attorno al 1060 1070 non oltre viene costruito o ricostruito se vogliamo vederlo in continuità con l'ospizio del carolingio l'ospedale di san giovanni di gerusalemme si chiama ospedale di san giovanni perché stanno i pressi di una chiesa bizantina dedicata al battista è un momento determinante questo 1060 1070 possiamo essere più precisi sì diciamo un termine antequem il 1071 questo ospedale viene costruito diciamo probabilmente nel settimo decennio dell'undicesimo secolo per vari motivi certamente entro il 1071 perché dico certamente entro il 1071 perché in primo luogo perché il 1071 è un anno non come un altro per il medio oriente per il vicino oriente il 1071 è l'anno della famosa battaglia di mansikert che vede i turchi sergiucidi subentrare ai fatimidi nel nell'oriente siro palestinese quindi anche a gerusalemme i musulmani non avevano nulla e gli amalfitani non avevano nulla a che fare con i turchi sergiucidi gli amalfitani avevano rapporti con i fatimidi d'egitto punto 2 il finanziatore il fondatore dell'ospedale di gerusalemme fondatore come dire il finanziatore colui che ha patrocinato questa fondazione mauro de pan il mercante patrizio amalfitano mauro de pantaleone de comite maurone nel 1071 si fa monaco entra a monte cassino e quindi diciamo e poi anche per una serie di motivi possiamo dire che nel 1071 l'ospedale è già operante ovviamente sotto il dominio musulmano nella parte di gerusalemme che è dei latini e accoglie i pellegrini che vengono da lontano a a gerusalemme ovviamente eh dobbiamo dobbiamo capire due cose intanto questa famiglia ehm i de comite maurone non è una famiglia qualunque non è una semplice famiglia di mercanti o di patrizia amalfitani legati ad una realtà locale è una famiglia in grado di dialogare col basileus a Costantinopoli dove il figlio di Mauro e già prima di lui il padre eh tengono aperto un palazzo dove addirittura viene ospitato il cardinale Umberto di Silva de Candida Federico di Lorena il vescovo di Amalfi Pietro Alperio quando si tratta di eh dialogare con eh Costantinopoli addirittura per cercare una riappacificazione meglio dire un riavvicinamento tra le due chiese dopo il grande scismo i de comite maurone sono una famiglia in grado di dialogare con l'impero d'Occidente anche al punto che quando i de comite maurone si troveranno in difficoltà al punto che uno dei figli di Mauro sarà ostaggio del principe Longombardo di Salerno Gisulfo interverrà direttamente l'imperatrice agnese recandosi da Gisulfo di Salerno dice amato di Monte Cassino si buttò ai piedi eh del principe Longombardo senza successo per cercare di liberare da dalla prigionina il figlio di Mauro e eh i de comite maurone hanno anche rapporti ovviamente privilegiati col papato con l'alta gerarchia ecclesiastica e soprattutto con l'arci cenobbio di Monte Cassino in particolare con Desiderio l'abate Desiderio che poi diventerà papa Vittore III il quale giunge ad Amalfi nel 1065 al quale i eh dei comite maurone regaleranno delle porte bronze a Monte Cassino saranno anche finanziatori di diverse porte bronze eh nell'Italia meridionale penso a San Michele al Gargano e ad altri luoghi che adesso non è il caso di citare e quindi ci sono questi rapporti stretti cioè una donazione importante la famosa eh cassetta di farfa che viene donata nell'occasione dell'ingresso di Mauro a Monte Cassino all'abate Desiderio insomma una serie di rapporti consolidati che fanno capire come a un certo punto fosse naturale che poi di quell'ospedale fondato dagli Amalfitani a Gerusalemme si occupassero i benedettini di Cassino sostanzialmente tant'è che ce lo dice Guglielmo di Tira ma anche tante altre fonti non è soltanto lui a riferirci della questione Mauro del comite maurone quando eh c'è da riempire di monaci il l'ospedale chiama abbate e monaci delle sue parti tra questi monaci c'era verosimilmente Gerardo che funge da ospitalarus da ospedaliere quindi da addetto all'ospitalità di questo ospizio già dai tempi prima della prima crociata poi tutto cambia col 1099 cambia il quadro della mobilità devozionale cambia il quadro politico gerosolimitano questo ospedale che prima era annesso al monastero benedettino di Santa Maria dei latini si dissocia e diventa all'indomani della prima crociata sappiamo che la prima crociata porta alla presa della città il 15 luglio del 1099 dopo circa cinque settimane d'assedio ecco all'indomani della presa della città con come dire la risistemazione delle competenze non potevo dirla peggio ma insomma la riorganizzazione o la organizzazione la prima organizzazione del regno all'indomani della conquista ospedale e monastero si separano perché e questo ho provato anche a spiegarlo guarda la cosa secondo me è conseguenziale nel senso che l'ospitalità non nasce ovviamente con l'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme sin dalla tarda antichità pensiamo al cursus publicus romano pensiamo al a ciò che è scritto nel codice giustinianeo che addirittura inquadra un sistema ben più articolato di ospedali con gerontocomi, ptocchi, xenodoti, orfanotrofi, non so comi quindi con delle specifiche funzioni di ogni singola struttura ecco la l'ospitalità è qualcosa di già ben strutturato in età tardo antica nel corso dell'alto medioevo quando i viaggi si diradano la realtà cambia si viaggia un po di meno viaggiano soprattutto religiosi abbiamo detto viaggiano in piccoli gruppi i monaci diventano gli specialisti dell'ospitalità prendono in mano le redini di questo della dell'assistenza in senso lato e ogni monastero ha il suo xenodochium il suo ospedale con l'addetto ospedaliere in genere si può stare nel monastero come ospiti viaggiatori per due tre giorni non di più ma sai quando i monasteri sono situati lungo le grandi arterie di pellegrinaggio lungo le vie i viaggiatori hanno interesse a sostare lì non più dei due tre giorni consentiti perché sono in viaggio devono riposarsi per qualche tempo e poi continuare fino alla meta ma quando si parla di un ospedale sempre annesso ad un monastero come quello di gerusalemme situato non lungo il percorso del pellegrinaggio ma la meta guarda per usare una butade per semplificare è come se oggi parlassimo di un albergo situato accanto al al centro di una città non so accanto alla piazza principale di una città l'ospedale di gerusalemme anche oggi chi va a visitare il muristan e il santo sepolcro a gerusalemme si rende conto dell'immediata vicinanza da da questi luoghi le fonti dicono e così si intitola anche un capitolo del mio libro è a un tiro di pietra di distanza dal santo sepolcro oggi diremmo a un tiro di schioppo insomma l'ospedale di gerusalemme sta nelle immediate vicinanze del santo sepolcro per cui chi arriva sta lì perlomeno tutta la settimana santa si arriva come si arriva spesso in in occasione delle festività pasquale o comunque sta lì per qualche tempo per visitare tutti i luoghi santi e ce ne vuole del tempo si fa un viaggio che dura alcuni mesi se non addirittura alcuni anni per stare a gerusalemme qualche tempo inoltre il quadro della mobilità devozionale è cambiato già abbiamo visto aumentare significativamente i numeri nel corso dell'undicesimo secolo ma ancora di più aumentano dopo la presa cristiana di gerusalemme quando arrivano gli eserciti arrivano anche i militari arrivano i crociati arrivano altri pellegrini insomma i numeri sono diversi e in questo clima era difficile conciliare la comunque quel desiderio di quiete non dico di ascesi ma di quiete monastica la come dire la peregrinazio instabilitate la peregrinazio ascetica di un monastero con i rumori e la vivacità di un ospedale che pensa secondo la testimonianza di un pellegrino della fine del dodicesimo secolo giovanni da bursburg arrivò a d'accogliere ben duemila ospiti poi si è molto discusso tra calcoli addirittura sulla base di delle risultanze archeologiche degli spazi sul totale effettivo degli ospiti che poteva contenere questo ospedale alla fine di tutte queste discussioni si è arrivata a dire che comunque il numero era non meno di mille e forse anche duemila in casi eccezionali ma l'eccezionalità era la regola in tempi come quelli e quindi ecco perché si dissocia l'ospedale dal monastero le funzioni cominciano a essere diverse gerardo che era che fungeva da ospedale ospedaliere del monastero di santa maria dei latini per demandato a batis quindi per incarico del suo abate diventa capo e di un'istituzione che da quel momento diventa indipendente da quel momento di fatto nasce l'ospedale con la o maiuscola l'ospedale di san giovanni di gerusalemme lascia l'ordine degli ospedalieri per cui si può dire sì che gerardo è il fondatore degli ospedalieri non degli dell'ospedale perché l'ospedale c'era degli ospedalieri come ordine se vogliamo indipendente a partire dal 1099 tant'è che già l'indomani del 1099 l'ospedale comincia a ricevere donazioni per proprio conto abbiamo dei documenti di goffredo di buglione per la verità di baldobino primo che conferma donazioni fatte un pario del 1112 al 1114 di baldobino prima che conferma precedenti donazioni fatte da goffredo advocatus sancti sepulchi direttamente all'ospedale abbiamo per esempio tra le cronache per fare capire che sono concordi sia le testimonianze di natura narrativa che quelle documentari abbiamo per esempio e che ardo d'aura che ci racconta di come il dux magnanimus goffredo decidesse di fare delle donazioni sia al monastero che all'ospedale in qualche modo sottolineando implicitamente la separazione tra ospedale e monastero abbiamo una serie di donazioni legate per esempio anche a boemondo di altavilla a boemondo di principe di taranto e di antiochia il quale ad antiochia concede degli spazi attenzione alcuni dei quali penso anche ad una donazione del patriarca bernardo presso il bico degli amalfitani già perché gli amalfitani erano stati anche lì e anche lì avevano fondato un ospedale questa continuità di presenza è anche interessante donazioni che quindi individuano l'ospedale come istituzione autonoma se stante già all'indomani della presa della città sono molti i documenti che qui che ora non abbiamo il tempo di sottolineare per cui su questo c'era mi permetto di dire un dibattito in corso ho provato di dirlo più chiaramente di quanto non fosse stato fatto prima anche sulla base di altre considerazioni c'è un documento importante una pergamena conservata presso l'archivio di san filippo da gira in sicilia che era prima una abbazia suffraganea di quella geroso limitana si chiamava santa maria dei latini con lo stesso nome significativamente di quel geroso limitano qui noi possediamo una coppia rivolta di un documento che era stato inviato nel 1112 da pasquale secondo all'abbate del monastero di santa maria dei latini e pasquale secondo il papa ricorda come questo monastero fu quindi fu a quell'epoca prima della presa della città perché dice turcorunque saracenorum temporibus quindi al tempo dei turchi e dei saraceni fu l'ospizio dei latini questo significa che finito il tempo dei saraceni e dei turchi quel monastero non è stato più l'ospizio dei latini perché l'ospizio è andato per la sua strada e tra l'altro al tempo dei turchi e dei saraceni non so se fosse stato sottolineato prima non credo onestamente non è la stessa cosa cioè la cancelleria pontificia molto precisa nell'utilizzo dei termini i turchi e i saraceni erano coloro che si erano avvicendati al governo di gerusalemme negli anni complicatissimi alla vigilia della crociata dopo la battaglia di mansicerte fino al 1099 e quindi insomma una serie di testimonianze ci dicono e ci aiutano a capire perché questo ospedale si fosse dissociato l'abbiamo detto per motivi legati allo sviluppo della mobilità devozionale che imponevano una netta separazione dei compiti tra religiosi quindi tra dedicati alle funzioni liturgiche e altri dedicati all'ospitalità e quando si dissocia è anche molto chiaro all'indomani del 1099 e ci sono molti documenti poi che registrano donazioni provenienti da vescovi abbati grandi e piccoli feudatari da tutta Europa da oriente occidente gli ospedalieri immediatamente o quando parliamo va da sé di ospedalieri o giovanniti poi saranno i cavalieri di malta parliamo sempre del della stessa roba sono sempre loro cominciano subito a diventare un ordine potente a ottenere donazioni tra oriente occidente in portogallo nell'attuale inghilterra nella penisola oberica nella provenza tantissime molto ben documentate in italia meridionale nel regno latino di gerusalemme e anche nel principato di antiochia ma altrove in tutto il vicino oriente latino c'è un documento che più degli altri ed è il più conosciuto e significativo la famosa pie postulatio voluntatis del 1113 emanata da benevento dal già nominato pasquale secondo con questo documento su petizio su richiesta formale da parte di gerardo il papa accoglie sostanzialmente il nuovo ordine sotto lo scudo della santa sede in qualche maniera svincolandolo di fatto dalla sorveglianza del patriarca di gerusalemme e gli riconosce tutte le donazioni ottenute e da ottenere da quel momento quindi gli riconosce un'autonomia si riferisce a gerardo come con i titoli di prepositos e istituto capo in buona sostanza poi qualcosa la dobbiamo dire anche su sul titolo di gerardo è chiamato rector e rector ospitalarius sanadoxios istituto prepositos insomma il capo di questa istituzione certamente il primo gran maestro ho esitato a scegliere questo titolo inizialmente era un altro ti dico la verità si chiamava la crociata senza spada e questo aiuta a spiegare un po anche la prefazione di franco cardini poi proprio parlando con cardini mi sono fatto coraggio e ho detto perché no chiamiamolo il primo gran maestro il dubbio era legato a quello che sto per dirti cioè al fatto che è questo titolo subentra tecnicamente soltanto si generalizza a partire dal quattrocento come grandis magister o magnus magister ma sono solamente molto tardi solo che l'ordine noi sappiamo e tutti i tuoi ascoltatori sono abbastanza esperti di cose medievale per sapere che l'idea di piramide feudale è un è un mito è una è una stortura che non si ritrova più grazie a dio negli odierni manuali ma l'immagine di governo piramide per ciò che concerne l'ordine di san giovanni di gerusalemme non è così sbagliata quindi sostanzialmente a un certo punto noi abbiamo un gran maestro il capitolo generale poi balivi e poi magistri che sono i responsabili delle singole domus o precettorie che stanno eh nei diversi luoghi insomma noi già all'inizio del millecento abbiamo documentati dei capi di domus che sono definiti magistri magister se c'è un magister c'è anche un a capo un gramma un gran maestro non solo eh dove questo non bastasse mi sono fatto comportare da alcune fonti sì più tardi ma ufficiali perché vengono da alcuni codici eh di di cose ospedaliere con la regola gli statuti altri scritti in cui tra le altre cose c'è un testo di cui vorrei occuparmi in futuro che si chiama proprio la cronica magistrorum defuntorum una sorta di sviluppo degli obituari con delle piccole biografie dei gran maestri che si sono succeduti a capo dell'ordine a partire dal 1099 fino a quando è stato compilato scritto il manoscritto pensa eh ebbene il primo gran maestro individuato è sempre Gerardo che poi viene anche definito gardien rector insomma con tutti gli altri titoli ma è il primo di questa lista di gran maestri quindi Gerardo è senz'alto il primo gran maestro eh di fatto oltre che eh oltre che per il titolo che gli viene riconosciuto anche nelle fonti eh eravamo rimasti al 1113 in quel momento l'ordine è già così sviluppato da contare eh possedimenti domus xenodoti altri ospedali dipendenti da quello di Gerusalemme tra Oriente Occidente e un po' ovunque pensa che la stessa Pia Fossulatio Voluntatis di Pasquale II registra eh sette ospizi su cui sono stati sollevati anche dei dubbi eh sull'esistenza ma che io non mi sento di di accogliere perché questo documento dice personalmente sicuto di esunt così come ci sono oggi. Sette ospizi eh tra Provenza e Italia ma in buona sostanza in Italia sono Saint-Gilles, Asti, Pisa, Messina, Otranto, Bari e e Taranto. Già nel 1113 queste case dipendono dall'ordine ma in realtà tanti altri possedimenti sono donati già nei primi anni dell'undicesimo secolo e prima della Pia Postolatio Voluntatis sempre diretta ai Gerardo e ai suoi fratelli in genere nel nei documenti è scritto eh addio al santo sepolcro a Gerardo ai suoi fratelli ospedalieri di Gerusalemme e quindi una serie di possedimenti c'è chi dona se stesso, c'è chi dona terreni con intere famiglie, c'è chi dona eh pascoli animali, chi dona castelli, chi dona ampi spazi, chi dona ovviamente denaro e risorse materiali di altro tipo quasi sempre con la speranza di eh guadagnarsi la misericordia divina mentre si avvicina il giorno del giudizio ecco questo spirito escatologico che torna e che in qualche misura eh manifesta questa eh continuità tra il tempo prima e dopo la presa eh della crociata eh la presa della città santa quindi eh insomma eh è una storia quindi che va vista in continuità tra la vigilia e l'immediato eh post prima crociata. Eh e tra l'altro una cosa eh come avvengono queste donazioni? Sono anche sostenute richieste eh dalla Chiesa di Roma. Eh lo stesso giorno in cui mi pare fosse il quindici mi pare sono certo fosse il quindici febbraio 1113 sarebbe se la sbaglio reclamo potrebbe anche del 1113 in cui Pasquale II emana la famosa pie postulatio voluntatis da Benevento lo stesso giorno eh scrive due lettere che consegna a due emissari di Gerardo è detto testualmente di cui conosciamo anche i nomi si chiamano Palaico e Arceleno dei nomi chissà perché oggi non vengono scelti anzi un consiglio eh alle mamme vabbè al di là mentre ricordo a me stesso che eh eh di essere più serio ehm volevo dire eh queste sono lettere però interessanti perché tramite questi latori tramite Palaico Arceleno Pasquale II chiede di informare tutti i potenti d'Europa in particolare Palaico si rivolge a a ai vescovi agli abbati ai feudatari della Spagna Arceleno ai vescovi agli abbati ai feudatari del resto d'Europa per eh promuovere l'opera dell'ospedale di cui Pasquale II evidentemente era stato informato e quindi è una sorta di raccomandazione che finirà per eh favorire ancora di più le donazioni di eh eh a favore dell'ospedale. Dopo questo privilegio di Pasquale II al a Gerardo e all'ospedale ne abbiamo altre di conferme dai successori abbiamo una conferma di Callisto II, una di Innocenzo II, credo anche una perduta di Onorio II cui pure si fa riferimento, un'altra di Alessandro III, insomma eh eh l'ospedale comincia ad essere eh aiutato e agire di concerto con con la Chiesa di Roma e i risultati eh sono sono importanti, sono visibili perché è scritto nelle fonti di Damparvo Principe da un così piccolo principio gli ospedalieri giunsero nel breve volgere di un mezzo secolo ad avere la potenza che poi hanno avuto. Intanto la storia cambia, si evolve, succedono tante cose, cambia anche il quadro geopolitico d'insieme, il quadro del regno eh latino di Gerusalemme che porterà anche ad una militarizzazione dell'ordine. Ecco perché questi frati poi saranno conosciuti anche come frati cavalieri nel senso che si affiancherà alla missione assistenziale che è la vera cifra identitaria degli ospedalieri dai tempi di Gerardo fino ai tempi odierni perché oggi l'ordine esiste, è uno Stato senza territorio ma con un importante corpo diplomatico che svolge importanti, importantissime attività in ambito assistenziale eh da sempre in prima fila quindi questo compito assistenziale c'è dalle origini e rimane ancora oggi. Per un certo periodo complice anche l'evolversi della situazione in Terra Santa eh per lo stesso motivo che aveva visto in fin dei conti nascere l'ospedale l'ordine cioè l'attenzione alle necessità della mobilità devozionale, l'attenzione alla necessità dei pellegrini furono fu quella stessa attenzione a portare l'ordine anche a militarizzarsi e per cui questo ospedale che stava nei pressi del Santo Sepolcro cominciò a ingrandirsi, vi ho detto duemila posti letti ma ad includere anche spazi enormi per esempio per accogliere cavalli eh e ovviamente spazi per conservare eh armi genere alimentari spazi all'aperto eh è un complesso il muristan un'altra cosa ho dimenticato di dirla quest'ampia area ospedaliera a sud del Santo Sepolcro sta nel cosiddetto muristan questo termine è molto interessante perché si chiama muristan qui non riporto idee mie ma dico soltanto quello che altri studiosi eminenti e molto più illustri del sottoscritto ovviamente hanno sostenuto in genere si è eh sottolineato il fatto che muristan derivasse dal persiano bimaristan che significa appunto ospedale però eh l'orientalista eh della sapienza emerita Anna Masala che è venuta a mancare qualche anno fa ha sostenuto eh nell'ambito di un convegno a scala tenutosi in occasione dei novecento anni dalla presa di Gerusalemme che il nome muristan potesse derivare addirittura da stan di Mauro luogo di Mauro facendo quindi riferimento al fondatore dell'ospedale Mauro de Pantaleone de Comite Maurone ovviamente lungi da me ipotizzare mettermi in un dibattito filologico diciamo eh relativo alla lingua persiana ma era importante riportare questa questione e comunque questo muristan ancora oggi c'è muristan street è ben identificabile il quartiere occupava una vasta area di cento un quadrato dai lati presso a poco di centotrenta metri quadrati eh diciamo scusate un quadrato con ogni lato di centotrenta metri al di sotto del santo sepolcro dove possiamo distinguere quattro edifici l'abbazia di Santa Maria dei Latini quella originaria un'abbazia femminile che venne creata per le pellegrine di Santa Maria Maddalena la chiesa originaria di San Giovanni Battista che ha dato il nome e il patronato all'ospedale di San Giovanni e poi l'ospedale propriamente detto che si situerà eh diciamo in più spazi all'interno di questo quadrilatero una struttura che poi diventa imponente importante che si adatta alle esigenze della alle esigenze nuove della mobilità devozionale insomma l'ospedale diventa una realtà importante sia a Gerusalemme che altrove questo lo dicono concordemente eh tutte le fonti sia documentarie che anche cronachistiche penso eh Marin Sanudo il Vecchio a Jacques de Vitry sì che traggono ispirazione da Guglielmo di Tiro ma senza far mancare eh ogni volta degli elementi nuovi penso a Guglielmo di Stanto Stefano che è il primo storiografo ufficiale degli ospedalieri e e poi si comincia ad elaborare una regola degli ospedalieri non lo si fa al tempo di Gerardo però può darsi che una bozza una regola orale già dai tempi di Gerardo che muore nel 1120 ci fosse la regola come la conosciamo noi oggi è è è la cosiddetta regola Raimundina cioè fa riferimento al successore di Gerardo Raimond De Puy fa riferimento a lui perché la prima ehm conferma della regola risale ad Eugenio III che muore mi pare nel 1153 non vorrei sbagliarmi comunque negli anni 50 del dodicesimo secolo quindi al tempo del secondo gran maestro Raimondo però i primi manoscritti sulla regola in particolare una versione anglo-normanna risale agli anni 80 eh del dodicesimo secolo quindi trent'anni dopo Raimondo è però questa regola che che ha molto a che fare con il substrato benedettino e e e probabilmente già eh attiva insomma è già in uso all'epoca di Gerardo comunque dopo la morte di Gerardo eh su Gerardo si eh si comincia a costruire anche una storiografia ufficiale dell'ordine e anche una geografia attraverso una serie di di racconti che cominciano a inquadrare eh la sua vicenda biografica in un orizzonte come quello medievale soprattutto quello legato alla crociata fatto di visioni ritrovamenti miracoli come poteva mancare un miracolo relativo a Gerardo che è una figura reale così importante ma che poi è assurda eh abbeato a figura anche di riferimento eh per i credenti e per i fedeli eh legati all'ospedale a un certo punto gli ospedalieri cominciarono infatti a compilare delle storie sulle origini dell'ospedale che non sempre erano legate alla realtà storica e lo fecero anche per perché rivaleggiavano con i fratelli minori templari dico minori perché sono nati dopo i templari e i teutonici che nascono ancora dopo eh per accapararsi le le risorse necessarie per accapararsi l'attenzione dei fedeli per penetrare al cuore dei fedeli cominciarono ad essere elaborate storie anche miracolose tu pensa che anche i resoconti della prima crociata sono densi di dettagli che rinviano al miracoloso non so eh sotto le mura di Gerusalemme si ritrova la sacra lancia oppure si vede ademaro di Montei il vescovo di ademaro di Lupui che ehm eh incita i crociati nonostante fosse morto qualche mese prima ad Antiochia quindi in questo clima in cui reale e immaginario si compenetrano in questo clima cominciano post morten anche a essere elaborati racconti miracolosi eh leggendari ma leggendari nel senso etimologico del termine su Gerardo. Gerardo è un capitolo fondamentale della storia ospedaliera però gli ospedalieri eh scrivono dei racconti noti come miracola che ehm in qualche modo costruiscono una storia che risale addirittura al vecchio testamento secondo queste storie mitiche il leggendari il fondatore dell'ospedale sarebbe stata addirittura Giuda Maccabeo il quale avrebbe indirizzato una prima donazione all'ospedale e ospedale che poi divenne teatro delle vicende addirittura eh eh legate ai genitori di Giovanni Battista e poi alla vita stessa di Cristo si narrò che Cristo stesso avesse compiuto dei miracoli nell'ospedale e queste versioni dei miracola furono acquisirono acquisirono un certo credito furono utili al loro scopo fino a quando un eh uno storiografo attento come Guglielmo di Santo Stefano che era il commentatore di Cipro scrivendo un suo eh una sua opera storiografica nota come Exordium Hospitalis eh disse a proposito di questa miracola eh miracola in francese medievale eh or le son la vanité i tenon la eh tenon la verite cioè lasciamo da parte la vanità e mettiamo in ordine la verità. Guglielmo di Santo Stefano è il primo storiografo che mette un po' in ordine tutto il corpus eh letterario narrativo sugli ospedalieri facendo il punto distinguendo finalità a geografiche da finalità storiche e cronaziche e quindi distingue ciò che è miracoloso da ciò che è la realtà storica e però su un punto sono concordi miracola e fonti storiografiche sugli ospedalieri cioè sull'opera di Gerardo perché Gerardo è protagonista sia delle opere storiografiche tramandate da diversi manoscritti ospedaliere non sto qui a dettagliarle se arrivi troppo lungo abbiamo già parlato abbastanza ma è protagonista anche di una versione lunga del miracola in cui si parla del miracolo di Gerardo cioè mentre si costruisce la storia degli ospedaliere si costruisce allo stesso tempo la geografia di Gerardo di cui si narra che era al tempo della conquista della città santa era già dentro le mura e su questo sono concordi cronac e a geografia però mentre Guglielmo di Tiro si limita a dire che al tempo della presa della città da parte di Goffredo di Buglione Gerardo fu torturato perché si teme si credeva avesse nascosto del denaro i miracola ospedalieri quindi le fonti geografiche dicono di più dicono che Gerardo fu protagonista di un grande miracolo di un grande miracolo si narrò che aiutasse i crociati durante l'assedio di Gerusalemme lanciando del pane dal di dentro della città muraria all'esterno per aiutare gli assedianti evidentemente affamati dopo un mese di assedio scoperto dal sultano così lo chiamano le fonti fu condotto da davanti al sultano il quale in un primo momento è un'immagine un po' tipo alter Christus di fronte a Pilato in un primo momento si rifiuta il sultano di condannarlo dice agli altri saraceni di prenderlo con le mani nel sacco quindi di coglierlo in quel momento così fanno le guardie saraceni lo portano con il pane davanti al sultano ma nel momento di mostrare al sultano le le pagnotte di pane che Gerardo aveva lanciato ai crociati queste pagnotte di pane diventano pietre e quindi questo è il famoso miracolo delle pietre del pane pardon che si trasformano in pietra e che poi eh in qualche modo il miracolo è il miracolo che restituisce ancora oggi l'iconografia di Gerardo che tra l'altro possiamo vedere ancora oggi a Malta in affreschi non troppo conosciuti eh ma eh significativi opere eh in opere per esempio di Lionello Spada e di Mattia Preti il cavalier calabrese e che conserviamo ancora oggi alla valletta insomma dalla storia alla geografia è un personaggio che poi entra nella leggenda e ahimè è entrato poi a un certo punto anche nel mito ma è una storia vera altro che storia oscura è una storia ben documentata da dagli atti dalle cronache e dall'analisi di un contesto mediterraneo che lo fa emergere come protagonista di una storia nuova ma come erede di una lunga tradizione Giuseppe io io starei qua veramente tutto il giorno ad ascoltarti perché troppo gentile l'hai resa in maniera estremamente avvincente quindi non faccio altro che ricordare il titolo del libro come faccio in genere a conclusione di questi nostri incontri il titolo di questo saggio è il primo gran maestro Gerardo dell'ospedale di San Giovanni di Gerusalemme 1070-1120 l'autore Giuseppe Porta edito da Edizioni Scientifiche Italiane nel 2020 172 pagine per 22 euro siamo vicini alle feste regalate libri regalate il libro di Giuseppe perché merita e approfittate anche del fatto che non costa un iperbole ti ringrazio tantissimo di aver accettato per chi non volesse comprarlo può sempre scrivermi aprire un dialogo chiedermelo io dirò che non posso regalarlo quindi inviterò nuovamente a comprare ma scherzi a parte al di là del tuo gentilissimo invito mi fa piacere insomma aver dialogato con te e che questa in fondo non è un mezzo ma è un fine l'obiettivo era parlare oggi non non soltanto invitare alla lettura e mi fa molto piacere aver dialogato con te ti ringrazio davvero moltissimo e alla prossima sicuramente sicuramente io ricordo a tutti i nostri video ascoltatori di continuare a seguirci sul sito di Italia Medievale l'indirizzo è www.italiamedievale.org dove trovate anche tutte le video presentazioni che abbiamo fatto in questi cupi mesi di pandemia sperando di tornare presto a poterle fare nuovamente in presenza come si dice oggi e soprattutto con la partecipazione però comberrai con me che ci sono degli incredibili vantaggi intanto il pubblico poi insomma tutto ciò è a costo zero almeno almeno credo a meno che tu non abbia intenzione di inviarmi un conto salatissimo alla fine nel caso rivolgiti all'amico Antonio Musara che ci ha messo in contatto e che colgo l'occasione per ringraziare ma lui è un uomo così generoso magnanimo che provvederà nel caso a saldare tutto il debito e quindi lo ringraziamo anche per questo è tutto gratuito non temere è tutto gratuito fin di divulgazione come si suol dire quindi grazie a te e a presto ciao Giuseppe grazie